filosofo greco antico eraclito di efeso 535 475 avanti cristo filosofo greco antico uno dei maggiori pensatori presocratici in frammento dice gli asini scelgono per sé la spazzatura e rifiutano loro commento non a caso gli asini occupano un posto evolutivamente basso nell'anima gruppo degli equidi di cui fanno parte anche i cavalli e le zebbre